Samsung ha annunciato l'IFA il suo nuovo top di gamma di tv, un tv veramente grosso, 75 pollici e un nuovo ES9000. Cornice ultra sottile nonostante le dimensioni dello schermo, che vediamo quanto è veramente sottile e poco spessa la cornice, ed è anche tutta rifinita con doratura e praticamente cambia sfumatura lungo tutto lo spirito. Tecnologie all'avanguarda per quanto riguarda il pannello che nonostante la dimensione è comunque full hd, tecnologia ultra micro dimming un nuovo filtro che migliora il 30% il rapporto di contrasto rispetto alla serie 9000. Come sulla serie 8000 c'è anche una webcam, in questo caso la scomparsa per rovinare l'estetica, vediamo come edge solo per quanto ci serve davvero. Un display quindi molto avanzato dal punto di vista tecnologia, ha tutte le funzioni multimediale della serie ES8000 e in più appunto dimensioni davvero campione.